Musica Doppio arresto antidroga messo a segno ieri nel pomeriggio dai carabinieri di Stresa in manette due verbanesi Al via le pratiche per la realizzazione della nuova sala per parto in acqua al Castelli donata da Beach for Babies Mercato del lavoro VCO 520 assunzioni in agosto per lo più addetti al settore turistico e contratti a tempo determinato Niente resta al in per il municipio di Gravellona, l'amministrazione non ha ottenuto il contributo regionale ma verranno comunque cambiati gli infissi Una festa con intrattenimenti per tutta la famiglia, ieri sera il fuori tutto a domodosso, la tanta la gente in città Questa mattina Alcurotti ha preso il via la stagione 2019-2020 della Juventus Domo impegnata in promozione Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, due arresti per droga sono stati messi a segno dai carabinieri di Stresa Si tratta di un uomo e una donna, entrambi residenti a Verbagna, sono stati intercettati su un treno Milano-Domo d'Ossola Doppio arresto antidroga ha messo a segno ieri nel pomeriggio dai carabinieri di Stresa I militari, nell'ambito di un controllo, hanno notato su un treno proveniente da Milano e diretto a Domodossola la presenza di un uomo, FF, classe 1964, già noto alle forze dell'ordine e di una donna più giovane, MP, incensurata, classe 1993, entrambi residenti a Verbagna Alla stazione di fondo Tocci i carabinieri hanno fermato i due e una volta scesi dal treno li hanno perquisiti Nella borsa della donna, nascosti nel fondo di una spazzola, c'erano 17 grammi tra cocaina ed eroina L'uomo addosso aveva 450 euro in contanti E' scattata la perquisizione domiciliare, sono statati fuori pochi grammi di eroina oltre attrezzi per il taglio e il confezionamento dello stupefacente Dopo l'arresto sono stati mandati ai domiciliari questa mattina sono comparsi in tribunale per l'udienza di convalida Prima la donna è stata portata in ospedale per un malore, probabilmente una crisi di astinenza La PM Anna Maria Rossi ha chiesto per entrambi l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria Il giudice ha accolto la richiesta Incidente per un ciclista a quarantenne a Verbagna dopo una caduta ai Tre Pontini è stato trasportato in codice rosso al Castelli e poi trasferito in rianimazione all'ospedale di Novara ha fatto tutto da solo, non ci sono altri mezzi o persone coinvolte E sono già iniziate le pratiche per la realizzazione della nuova sala per parto in acqua presso l'ospedale Castelli di Verbagna finanziata da Beach for Babies con 55 mila euro Al termine della procedura burocratica saranno necessarie anche una serie di interventi strutturali abbiamo sentito il primario di ostetricia ginecologia, il dottor Arnulfo Noi abbiamo già iniziato la serie delle pratiche che devono portare dal conferimento della donazione alla realizzazione del progetto vero e proprio e quindi ora al termine della parte burocratica di adempimenti che all'interno dell'ASL sono ovviamente necessari si passerà alla realizzazione vera e propria del progetto che comprende ovviamente anche opere strutturali e non solo formali o di organizzazione Si parla di permettere alle donne di partorire in acqua qui all'ospedale Castelli ma in cosa consiste esattamente? L'obiettivo è quello di fornire qui nel territorio dell'ASL-ICO Io ho un servizio in più nell'ostetricia cioè la possibilità di effettuare per le gravidanze fisiologiche un travaglio in acqua e eventualmente il parto in acqua in una vasca cosa che è presente come servizio anche in altri ospedali limitrofi e con cui ovviamente speriamo non solo di ridurre ancora la mobilità passiva ma francamente l'obiettivo è quello di offrire un servizio in più alle persone dell'ASL e del Verbano Quali sono i vantaggi per la neomamma di questo parto in acqua? I vantaggi sono in termini di riduzione del dolore durante il travaglio e quindi l'acqua è un ottimo analgesico e si accompagna quindi anche ad altre procedure di analgesia durante il travaglio che già effettuiamo unitamente a una sensazione che può essere personale e piacevole di un travaglio eventualmente del parto in acqua Un ringraziamento a tutti i cittadini e a tutti coloro che sono venuti alla manifestazione che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e il secondo e grandissimo ringraziamento va all'organizzazione ai sei ragazzi di Beach for Baby che si sono dati da fare veramente in un modo incredibile Parliamo di mercato del lavoro nel VCO oltre 500 le assunzioni previste in questo mese di agosto in gran parte nel settore turistico ma si tratta per lo più di contratti a tempo determinato 520 assunzioni nel VCO per il mese di agosto 1830 nel trimestre agosto settembre 2019 sono i numeri diffusi dalla Camera di Commercio nell'ambito del sistema informativo Excelsior purtroppo però solo nel 14% dei casi le entrate previste saranno stabili ossia con un contratto a tempo indeterminato di apprendistato mentre nell'86% dei casi saranno a termine a tempo determinato con altri contratti con durata predefinita le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 10% del totale in linea con il dato registrato nel mese precedente nell'agosto 2018 la maggiore necessità di nuovo personale nel settore dei servizi e delle professioni commerciali dove saranno destinati il 43% dei nuovi ingressi un quarto delle assunzioni circa riguarderanno operai specializzati e conduttori di impianti seguono profili generici, dirigenti, specialisti e tecnici e impiegati le professioni più difficili da reperire in questo periodo quelle legate al settore turistico cuochi, camerieri e altro che sono anche le posizioni numericamente più significative seguite da commessi e operai per una quota pari al 32% le nuove assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni 7 volte su 10 è richiesto un titolo di studio 6 volte su 100 la laurea ad oltre 6 candidati su 10 viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore l'andamento delle entrate mensili nel mondo del lavoro del VCO dall'agosto scorso ha fatto segnare un leggero aumento a gennaio 2019 e un picco a marzo-aprile 2019 calo tra lo scorso luglio e questo agosto un gommone al servizio dei carabinieri sul lago l'imbarcazione è stata consegnata in dotazione alla stazione di Stresa per i mesi di agosto e settembre viene condotta da personale specializzato in servizio navale il battello pneumatico ha già iniziato la sua attività di controllo sia diurno che notturno per lustrazione e sorveglianza sulle acque del lago maggiore si tratta dell'unica imbarcazione dei carabinieri in servizio sulla sponda piemontese del Verbano un'altra in dotazione a Luino i principali compiti sono il pattugliamento lungo la costa per prevenire e reprimere le violazioni delle norme su navigazione inquinamento e lavoro offrirà appoggio ai comandi di terraferma nelle operazioni di polizia giudiziaria sarà a disposizione per servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni soccorso in caso di incidenti e calamità e parteciperà ad operazioni di frontiere di contrasto al contrabbando chiusura dell'asilo di Crusinallo a Omenia conferenza stampa di PD e Sinistra Comune sentiamo Vincenzo Amato l'asilo non è un parcheggio per bambini ma il primo momento di crescita di una comunità così è iniziata la conferenza stampa da parte del PD e di Sinistra Comune mettendo in luce un po' le problematiche che ci sono a Omenia e questo è il primo approccio a Moscatiello esattamente che cosa intendete perché questo attacco all'amministrazione comunale di Omenia? Noi riteniamo che l'asilo ma l'asilo è e ha una funzione educativa importante non è un mero parcheggio le famiglie investono energie nell'inserimento dei bambini investono energie nelle scelte che fanno nell'affidare i bambini a delle maestre, a delle strutture e questa amministrazione dalla sera alla mattina ha deciso di eliminare un servizio non l'ha spostato, l'ha eliminato perché è un servizio in una posizione anche strategica su una strada di passaggio che facilita le famiglie quando si chiude un servizio di questo genere si mette anche nelle condizioni le giovani coppie magari di fare delle scelte diverse come scelta di vita L'opposizione ha messo sotto la lente di ingrandimento tutte le ultime scelte fatte dall'amministrazione comunale insomma, della situazione che è verso la città dalle dimissioni, l'ultima e recente anche del Consiglio di quartiere di Crusinallo fino al Masterplan insomma, in questa città non va bene niente Sì, allora, il problema non è dire che non va bene nulla il problema sono le metodologie che stanno applicando i nostri amministratori ogni scelta viene fatta senza nessun tipo di confronto e di dialogo ad oggi siamo già alla seconda dimissione in toto di due consigli di quartiere Verta Brughiere e Crusinallo è chiaro che c'è un malessere generale nella fattispecie sulla chiusura dell'asilo nido la cosa più grave è stata quella di applicarla in un periodo dove le persone sono in ferie e senza confrontarsi con tutti i soggetti interessati i sindacati per i lavoratori, i genitori, le maestranze Per il momento il municipio di Gravellona Toce non verrà sistemato il comune non ha ottenuto il finanziamento regionale si interverrà comunque per la sostituzione di infissi e serramenti dell'edificio Niente finanziamento e dunque niente restyling per il municipio di Gravellona Toce L'amministrazione Morandi infatti non ha avuto il milione e centomila euro richiesti tramite il bando regionale per l'efficientamento energetico Per ora dunque rimane un sogno l'atteso macchiage di palazzo di città che avrebbe decisamente cambiato volto La cifra infatti sarebbe servita per il rifacimento totale dell'impianto di riscaldamento con pannelli solare, pompe di calore cappottatura esterna di tetto e pareti a battimento delle barriere architettoniche con installazione di un ascensore Ci è stato comunicato spiega il primo cittadino del comune tocense Gianni Morandi che la richiesta di finanziamento non è stata accettata Procederemo comunque grazie ad un contributo di 70.000 euro dello Stato per l'efficientamento energetico alla sostituzione di infissi e serramenti un intervento minore ma comunque importante per noi L'amministrazione ha messo in cantiere peraltro altri interventi sempre con finanziamenti regionali legati alle aree mercatali Participeremo, spiega il primo cittadino ad un bando regionale per ottenere un finanziamento del 60% sul costo del progetto stimato in circa 200.000 euro per l'area mercatale del nostro comune Abbiamo in mente di procedere con la sistemazione e la riqualificazione dell'area di via Corridoni Vogliamo procedere con il rifacimento della pavimentazione con la ridistribuzione degli stalli con migliorie in tutta l'area e soprattutto con la realizzazione dei bagni pubblici che ora mancano conclude il primo cittadino di Gravellone In occasione delle celebrazioni per i 30 anni della locale sezione Ampas a Nebbiuno abbiamo incontrato la nuova amministrazione di Gattico Veruno che tra le sue priorità guarda proprio al sociale Stiamo avvoltando alcune cose a livello soprattutto sul sociale visto che siamo qui al redudo 30 anni dell'Ampas per cui siamo in trattativa con loro per vedere di portare anche un pezzo una costola di questa associazione sul nostro territorio per cui quello sarà già un grosso intervento dovremo trovare una degna collocazione per fare in modo che loro siano attrezzati in modo giusto per tutelare anche il nostro territorio L'ubicazione di Gattico Veruno è tra Rona e Borgomanero però è poco servizio dal punto di vista automobilistico dei servizi e avete una clinica di tutto rispetto che ha necessità appunto di avere dei trasporti efficienti Ma sì, questo è sempre stato un problema per il nostro territorio soprattutto dalla parte di Arona e Borgomanero perché dalla tratta verso Bogogno Gattico-Agrate qualche intervento a livello di trasporto c'è dovremmo incrementarli il problema grosso è che queste cooperative di automezzi creano problemi se non hai un certo numero di trasportati per cui diventa un problema grosso anche per noi 5.000 abitanti un bilancio da gestire e dove spenderete maggiormente i vostri soldi? Ma allora adesso stiamo cercando di dare delle priorità quindi stiamo valutando quello tra tutte le cose da fare le priorità per quelle più importanti Dica il primo bisogno più importante è quello più importante Ma adesso stiamo guardando soprattutto per quanto riguarda la sanità poi dobbiamo parlare c'è anche questa cosa di dover unificare i regolamenti che fino a prima erano due quindi adesso abbiamo la necessità di unificare quindi stiamo lavorando soprattutto su questa cosa Ci spostiamo a Domodossola ieri sera è stato un successo il Fuori Tutto che si è trasformato in un vero e proprio momento di svago per tutta la famiglia Fuori Tutto ieri sera a Domodossola l'ormai consueto appuntamento con gli affari di fine stagione in coincidenza con l'epilogo del periodo dei saldi estivi la giornata e la serata propizie per un po' di shopping si sono trasformate però in una vera e propria festa in tutto il centro cittadino per l'occasione chiuso al traffico i negozi potevano esporre le loro merci all'esterno per dare vita a un vero e proprio centro commerciale en plein air come potete vedere vie e piazze domesi ieri sera brulicavano di persone diverse provenivano anche da fuori città un pubblico di tutte le età perché se lo shopping solitamente non è un'attività particolarmente gradita ai piccoli non sono mancate le attrattive per loro come i trampolieri simpatici giganti che si sono fermati a chiacchierare con i bimbi e che hanno mostrato la loro abilità con la giocoleria e sempre al pubblico dei giovanissimi era destinato il colorato trenino dell'allegria insomma la serata di shopping si è trasformata in un evento gradito a tutta la famiglia in un'occasione per una passeggiata fuori casa per un caffè per ascoltare un po' di buona musica per qualche acquisto da sfruttare ancora in questi mesi estivi sfizi che non hanno pesato troppo sul portafoglio visto che questi super saldi arrivavano fino al 70% di sconto la fiera è stata promossa dall'assessorato comunale alle attività produttive ed ha avuto anche una buona sesione di commercianti e nel calendario di eventi proposti nell'ambito di Arona Lake & Shopping domenica 11 agosto dalle 15 alle 21 piazza San Graziano sarà luogo di incontro per grandi e piccini ed occasione per conoscere come si giocava un tempo quando videogiochi e televisione non erano ancora stati inventati la piazza ospiterà infatti una collezione di giochi in legno che appartengono alla tradizione in cui sarà possibile cimentarsi con la supervisione di operatori disponibili sia per dare indicazioni che per eventuali approfondimenti storici ogni gioco è realizzato a mano una giornata dunque di divertimento e di socializzazione e Verbania invece si prepara al Paglio Remiero che torna a Pallanza sono ben 15 le squadre iscritte al Paglio Remiero del prossimo 14 agosto per la 47esima edizione è stata ritrovata l'unità tra l'amministrazione comunale piazza e vila e tutte le associazioni e volontari che collaborano per la riuscita di un'iniziativa storica per Pallanza per il quinto anno oltre alla tradizionale regata notturna maschile ci sarà anche il Paglio Remiero Rosa dedicato a Galeoni con un equipaggio completamente femminile che rappresentano Liguria Piemonte e Lombardia tornano anche gli attesi eventi collaterali la spaghettata di mezzanotte la sagra del pesce organizzata dall'associazione La Riva le bancarelle e la musica dal vivo per l'occasione per evitare di intasare la viabilità di Pallanza VCO Trasporti offrirà un servizio di navette con fermate al cimitero di Sun al Tribunale a Villa Taranto in Piazza Gransci a Villa Giulia ci sarà la Proloco che si occuperà dei passi dei concorrenti e la pesciolata l'appuntamento a partire dalle 20 sul lungo lago di Pallanza alle 20.30 la partenza delle batterie e alle 23.30 le finali rinviato lo show di vette d'artificio ai 2000 metri dell'Alpe Ciamporino in programma questa sera la decisione è stata resa nota nella tarda mattinata di oggi a causa delle condizioni meteo proibitive in quota lo spettacolo slitta al 16 di agosto e Santa Maria Maggiore torna ad ospitare Sentieri e Pensieri sempre con la direzione artistica di Bruno Gambarotta ritorna in Valle Vigesso dal 19 e 25 agosto Sentieri e Pensieri la rassegna letteraria estiva di Santa Maria Maggiore diretta da Bruno Gambarotta giunto alla sua settima edizione il festival porterà nella Valle dei Pittori anche quest'anno importanti protagonisti del mondo della cultura e non solo un'anteprima è prevista già per domenica 18 presso la sala mandamentale alle 18 ci sarà l'incontro tenuto dall'obbista della carta Raimondo Cagliari che illustrerà al pubblico una sorta di vademecum dedicato alla cura del libro con brevi note di pulizia protezione e conservazione lunedì 19 agosto si entrerà quindi nel vivo del festival con alle 18 ospite Marco Albino Ferrari con il suo monologo dedicato alla via incantata l'appuntamento è a cura del Parco Nazionale Val Grande alle 21 dello stesso giorno in collaborazione con il Caivigezzo Franco Michieri presenterà invece il suo libro Andare per silenzi con immagini e suggestioni tanti altri saranno gli ospiti fino al 25 agosto da Billy Costa Curta a Roberto Maroni da Mario Botta ad Alice Basso e Matteo Severgnini passando per il gradito ritorno di Eraldo Pecci tra i vari appuntamenti calendari o quello di sabato 24 agosto alle 18 quando si parlerà del passato migratorio della Valle Vigezzo con gli storici scrittori Benito Mazzi e Derrico Rizzi e il loro incontro condotto dal direttore di VCO Azura TV Maurizio De Paoli dal titolo L'emigrazione vigezzina una grande storia vera per tutta la durata dell'evento verrà allestito anche quest'anno un bookshop a cura dell'associazione Ibreamoci che raccoglie gli editori i librai di Verbano Cusiossola di cui fanno parte gli editori grossi di Domodossola Alberti di Verbagna la pagina di Villa Dossola il rosso e il blu di Santa Maria Maggiore con le loro librerie e l'editore Tarara di Verbagna tutti gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri ad ingresso gratuito si terranno in Piazza Risorgimento e al Cinema Comunale di Santa Maria Maggiore il programma completo del festival è online all'indirizzo www.santamariamaggiore.info slash sentieri ed ora invece i programmi di VCO Azzurra TV torna domenica alle 20.35 la nostra storia edizione speciale estiva sempre con Marcello Perugini e allora con lui ci colleghiamo per qualche anticipazione grazie grazie della linea nella trasmissione che vedremo domenica sera sempre alle 20.30 la nostra storia speciale parleremo di insieme per un dono rivedendo due importantissimi concerti più che importanti dei bei concerti che hanno caratterizzato l'estate del 2000 ricordo ancora l'amministrazione di sempre un dono raccoglieva fondi per l'ospedale San Biagio di Domodossola era davvero delle state indimenticabili e vedremo nella puntata di domani sera il concerto di Irene Grandi e il concerto di Bobby Solo io vi attualmente vi aspetto 20.30 domenica Vicio Azzurra TV a voi la linea in apertura di pagina sportiva il calcio questa mattina Alcurotti ha preso il via la stagione 2019-2020 della Juventus Domo impegnata in promozione finalmente oggi inizia la preparazione della tua Juve Domo sì finalmente si inizia dopo tanto parlare 1640 riunioni alla fine ci troviamo qua sul campo che è la cosa che alla fine ci piace di più fare soprattutto per incominciare a lavorare con questi ragazzi che mi sembra anche solo dai primi 30 minuti di allenamento che sono dei ragazzi splendidi sotto il punto di vista caratteriale avete già iniziato fin da subito a lavorare con la palla allenamento subito nel vivo sì la palla il calcio si gioca col pallone di conseguenza è una parte molto importante della fase dell'allenamento è chiaro che si faranno dei lavori anche a secco perché io così ho un passato da Isef perciò la parte atletica è molto importante nel gioco del calcio soprattutto moderno dove comunque sia l'intensità e la corsa sono di base all'aria importanza peccato che che Democrito il nostro preparatore sia ancora via però cercheremo in questi dieci giorni che mancherà lui di dare il massimo anche lì prima dell'allenamento hai subito dato la carica ai tuoi ragazzi cosa gli hai detto? ma guarda più che carica ho voluto precisare alcuni aspetti su cui io ci tengo molto e non transigo all'interno dello spogliatoio ho fatto una parola che vale per tutte che è rispetto voglio che che i ragazzi rispettino la società rispettino sottoscritto e quelli che collaboreranno con me rispetteranno si devono rispettare tra di loro tra vecchi e giovani e questa è una cosa che dovrà dovrà esserci per tutto l'anno se si vogliono ottenere dei risultati importanti la corsa in montagna il 16 agosto 49esima edizione del baceno Devero Crampiolo con alcune conferme ma ci sono anche delle novità manca una settimana manca una settimana la 49esima edizione della baceno Devero Crampiolo la storica camminata non competitiva che si svolge come da tradizione il 16 agosto organizzata da Ossola Ski Team e Sciclaba Antigorio cooperativa Devero 2.0 e gruppo Alpini Baceno il fantastico percorso di quasi 15 chilometri che porta dai circa 623 metri di baceno agli oltre 1800 metri dell'incantato borgo di Crampiolo sopra l'Alpe Devero vedrà come al solito tantissimi runners ma anche tante famiglie che si danno appuntamento per vivere una grande giornata di sport e di festa in un contesto ambientale davvero spettacolare una delle principali caratteristiche della baceno Devero Crampiolo è infatti lo spettacolare ambiente in cui la manifestazione si svolge che da un primo tratto immerso nella natura bacenese dove è possibile riscoprire antichi sentieri e architetture sette-ottocentesche porta alle marmitte di Croveo e al treno dei bimbi voluto negli anni 60 da padre Michelangelo dal borgo di Goglio inizia la parte più impegnativa della gara lungo la mulattiera via via sempre più ripida che porta gli atleti al meraviglioso anfiteatro naturale dell'Alpe Devero e poi all'Alpe Crampiolo quest'anno sono previste alcune novità per tutti i partecipanti è prevista una canotta tecnica più un altro gadget e in più ai partecipanti che non useranno bicchieri ma porteranno un loro contenitore borraccia o bicchiere sarà dato un simpatico gadget all'arrivo l'obiettivo è ridurre al minimo il consumo di plastica altra caratteristica della baceno Devero Crampiolo è il bellissimo clima di festa infatti una volta terminata la camminata ci si ritrova tutti insieme alla festa alpina alla Piana del Devero che come di consueto inizierà giovedì 15 agosto venerdì 16 dopo la camminata alle 18 aperitivo e DJ set a cura del gruppo giovani Antigorio sabato 17 al pomeriggio si terrà la minicorsa sono previsti due percorsi diversi 2,5 km per i ragazzi tra i 7 e i 15 anni e 1,2 km per i bimbi da 0 a 6 anni a seguire musica con DJ Tanza la festa alpina di Devero si concluderà poi domenica 18 anche la festa sarà sempre più attenta all'ecologia tutte le posate distribuite saranno infatti in metallo mentre le stoviglie saranno realizzate in materiale ecologico siamo in chiusura per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito www.wcoazzurratv.it grazie per essere stati in nostra compagnia e buona domenica